E' tornato a funzionare stamani il sistema informatico delle poste italiane bloccato dalle 9 e mezza di ieri mattina. A Vittoria, come in tutta Italia, ieri è stata una giornata di rimandi e rinvii, dato che la rete degli uffici postali era andata in tilt. Non si potevano effettuare pagamenti o ritirare pensioni, impossibile qualsiasi tipo di operazione. Non è la prima volta che il sistema informatico delle poste italiane si blocchi e a pagarne le spese sono soprattutto gli anziani, che attendono ore presso gli uffici nell'attesa che riprenda a funzionare. Una grave situazione di disagio per tutti gli utenti. Ieri, in particolare, soltanto l'ufficio postale di Via Giacomo Matteotti di Vittoria ha potuto effettuare alcune operazioni. Gli altri non hanno garantito alcun servizio. A livello nazionale, l'ADOC, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, aveva immediatamente chiesto al Governo di prorogare ad oggi la scadenza dei pagamenti che dovevano essere effettuati entro la giornata di ieri, nonché l'attivazione della procedura di conciliazione bilaterale secondo il protocollo esistente. Grazie. 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 Grazie.